racconti di viaggio il travel podcast di nadia stacchiotti che vi porta in giro per il mondo dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane il podcast dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio protagonista di questo episodio di racconti di viaggio è la travel blogger monica liberani autrice del blog idee di tutto un po monica solitamente viaggio in maggiolina ossia con una speciale tenda sopra l'auto e arriva in destinazioni anche piuttosto lontane stavolta però chiesta a monica di raccontarmi il suo viaggio in iran un viaggio fatto non in maggiolina ma in aereo con sua figlia carlotta in questa intervista scopriremo dunque l'iran una destinazione sicuramente un pochino più particolare rispetto alle altre di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti ma parleremo non solamente delle cose da vedere e da fare ma indagheremo anche su come vivono gli iraniani e su come si approcciano al turismo un modo per sfatare tanti pregiudizi pronti a partire ciao monica benvenuta a racconti di viaggio ciao nadia grazie benvenuta perché da tanto che io in realtà volevo chiederti di raccontarci una destinazione molto bella e molto particolare anche non proprio semplicissima da visitare visto un po gli scenari un po ballerini che ci sono che è l'iran perché tu sei stata in iran esatto tra l'altro sono stata in iran non a fare un tour classico quindi non ho visto le città più famose ma sono stata in un'isoletta al sud dell'iran oltre aver visto terano ovviamente dove diciamo che le tradizioni sono ancora molto molto radicate quindi è stato un viaggio molto particolare perché hai scelto proprio di visitare l'iran che come dicevo non è proprio il paese più facile diciamo da poter raggiungere o comunque visitare ma allora in realtà era un desiderio che avevo da tantissimo tempo il mio diciamo desiderio massimo sarebbe stato arrivarci in macchina con la mia funda da tetto e quindi attraversare praticamente mezza europa per arrivare in iran non è così semplice anzi non lo è per niente per cui mi è capitata l'occasione di fare questi dieci giorni nel modo diciamo tradizionale quindi con l'aereo e con un tour perché l'iran perché perché comunque l'iran è la persia e la persia comunque ha un fascino che non lo so forse è l'unica è l'unico diciamo forse periodo storico che mi è rimasto ben impresso quindi io mi ricordo che anche quando sono andata in turchia che sono salita sul nemrod d'age ho visto la mesopotamia sotto di me e dopo la mesopotamia comincia la persia cioè per me è stata un'emozione fortissima quindi io sta persia ce l'avevo qui e quindi io dovevo andare a vederla e non sei andata da sola perché se lo sbaglio hai portato tua figlia sì esatto ho portato mia figlia e mio marito l'ho lasciato a casa e mia figlia aveva 17 anni ed era contenta euforica esaltata un po come me no è una destinazione che anche a lei è subito piaciuta molto ed è ed è l'ha incuriosita l'ha incuriosita perché comunque lì lei è consapevole che ci sono delle differenze e quindi lei voleva vedere e voleva capire per cui io e lei siamo partite con abbiamo prenotato il nostro aereo poi la avevamo un tour che ci aspettava e ci siamo divertite molto tutte e due ecco che generale avete fatto allora noi siamo arrivate a teheran abbiamo visitato una giornata teheran perché era un gruppo e quindi comunque ci siamo riuniti col gruppo in tempi diversi perché ognuno arrivava da città diverse quindi abbiamo visitato teheran e poi subito con un volo interno ci siamo spostati nel golfo di ormus che è particolarmente famoso perché è dove si bombardano sempre a causa del petrolio e però in quel momento era tutto abbastanza tranquillo nel golfo di ormus ci sono un paio di isolette tra cui questa dove sono stata io che è la più grande che si chiama cashm cashm è un'isola molto tradizionale cioè se vi aspettate di vedere dei palazzi imperiali e tutti i luccichini che ci sono nei palazzi di teheran e tutti bei mosaici che si vedono generalmente nelle foto di chi va in iran no non è così a cashm si incontra la gente perché a cashm c'è una popolazione che ha una particolarità allora in iran c'è l'obbligo del velo per le donne che è un obbligo di legge non solo religioso però vabbè è anche religioso nel senso che comunque sono una diciamo repubblica teocratica quindi da loro la religione fondamentalmente comanda detto in parole spicce quindi per tutti anche per i turisti quindi anche per te carlotta sì anche per me carlotta il velo è assolutamente obbligatorio e all'isola di cashm però invece di portare il velo cioè la testa è coperta comunque ma hanno anche delle maschere molto particolari che mettono davanti alla faccia sono maschere che possono essere o tutte colorate ricamate coprono praticamente tutti gli occhi ma ci sono anche delle maschere sempre molto tradizionali che coprono gli occhi poi passano sul naso tipo filino che passa sul naso e fanno un effetto baffo sulla bocca della signora che lo indossa che potrebbero sembrare fatte tipo di ferro quindi potrebbe sembrare uno strumento di tortura ma in realtà non lo è perché sono fatte di pelle di tessuto lavorate in un certo modo quindi non sono uno strumento di tortura oltre a questo portano anche il velo in testa perché comunque i capelli devono essere coperti quindi di particolare su quest'isola c'è questa popolazione molto tradizionale che indossa queste maschere che si ridono lì e in pochissimi altri posti ma quindi anche voi avete dovuto indossare questa maschera o in quest'isola era sufficiente il velo no per i turisti è sufficiente il velo la maschera la indossano le signore e le ragazze che abitano lì perché comunque per loro è una cosa tradizionale è una è un gesto è un gesto di cultura un gesto di tradizione e quindi lo indossano no l'obbligo religioso e governativo vale praticamente per i capelli ovvero una volta il velo andava portato in modo che lasciasse aperto solo che lasciasse visibile solo l'ovale del viso e tenesse coperto anche il collo in realtà adesso le ragazze lo portano facendosi tipo una coda sul di dietro o comunque uno chignon un concetto e lo appoggiano lì quindi i capelli sul davanti rimangono fuori e spesso anche il collo è scoperto e in questo momento questa cosa è tollerata però più scendi al sud più sei lontano da Teheran che comunque Teheran è abbastanza avanti nonostante debbano portare il velo le donne sono consapevoli del mondo che esiste fuori in realtà al sud non è così e quindi loro vivono ma senza costruzione è una cosa che loro hanno deciso di fare perché la maschera non è obbligatoria neppure per loro quindi io sono andata al sud ma dovevo avere il velo in testa ma non portare la maschera le donne invece che sono molto tradizionaliste portavano anche la maschera ma il velo l'hai acquistato lì oppure avevi già qualcosa a casa perché adesso immagino di dover fare la valigia e pensare di dover mettere il velo un attimo che mi porto che folà come lo metto dove ha messo sbaglio colorato no dimmi dimmi allora il velo lo devi portare da casa anche perché quando atterri in Iran prima di sbarcare dall'aereo tu devi avere il velo in testa quindi nel momento in cui arrivi ti avvisano proprio stiamo atterrando preparate il velo e quindi tu te lo devi mettere te ne accorgi perché comunque anche le donne iraniane che normalmente magari abitano in Europa magari qua non lo portano però quando arrivano lì cominciano a vestirsi a tirarlo fuori un qualsiasi fular va bene un fular che ripeto dovrebbe la regola è che dovrebbe coprire e lasciare scoperto tutta la testa e lasciare scoperto solo l'ovale del viso e anche il collo quindi appoggiato sulla testa che contorni diciamo il viso e girato intorno al collo in modo che stia fermo allora loro sono bravissime a metterlo perché non hanno bisogno di spilline di fermi già ce lo stavo per chiedere infatti tu che non sei capace come me che non ero capace come Carlotta che non era capace io mi ero portata dietro delle spilline per cercare di fermarlo a un certo punto impari però davvero loro fanno qualsiasi cosa qualsiasi movimento e sto velo sta su da solo tu invece vai a mangiare ti casca ti muovi per fare una foto e ti cade cioè bisogna anche saperlo portare ecco non è così immediato mettersi il velo in testa però non sono così formali nel senso che anche se ti cade ad esempio la nostra guida che ci accompagnava e ce lo faceva presente guarda che ti sta cadendo il velo però non è che la polizia arrivi lì e poi ti ammanette ti dice adesso porto in galera perché non hai il velo sono molto torre tolleranti in questo anche perché capiscono che non è una cosa di abitudine per chi non abita lì no e quindi con molta tranquillità questo velo provavamo a portarlo nel modo più disinfolto possibile insomma non è così semplice ma a livello di colori uno può variare anche sulle cose più sgargianti o bisogna essere un pochino sobri no loro sono estremamente cioè allora ci sono delle donne abbastanza tradizionali che vestono tutto di nero a terra ho visto dei negozi che vendevano abbigliamento femminile ma vendono le palandrane nere quelle tutte intere no tutto un vestito intero fa conto largo però magari ci hanno sopra un motivo fatto con delle perline oppure hanno le rusce sol davanti quindi te ti ritrovi con questo sacco lo chiamo io che ti copre tutta però c'hai queste cose un po così vezzose posso che parola difficile che ho detto io vezzose però le le vedi le ragazze giovani che invece hanno voglia di colore allora la la regola qual è che comunque devi portare dei vestiti che abbiano le maniche che ti arrivano sotto il gomito i pantaloni o le gonne lunghe sempre sotto il ginocchio e devi avere qualcosa di lungo che ti arrivi praticamente sotto il sedere cioè le forme non si devono vedere poi per il resto che tu voglia vestire di giallo di rosso di fucsio fosforescente puoi fare quello che vuoi tra l'altro loro sono sempre truccatissime curatissime sono perfette con dei rossetti molto rossi ho visto delle ragazze andare in giro con queste palandrane nere sopra il vestito ma sotto si vedeva che avevano dei tacchi tipo tacco 12 con delle unghie smaltate perfette quindi non è un problema di colore o di diciamo censura anche per quello che è il trucco o queste cose molto vanitose perché loro sotto in realtà sono tutte molto curate sono tutte molto truccate e ci tengono particolarmente quindi tu puoi vedere le ragazze che anzi hanno dei veli delle volte che sono veramente belli che ti dici no ma c'è ok l'obbligo del velo ma quello è proprio bello quindi cioè ci tengono ci tengono anche molto ad essere belle sotto per cui ci hanno bei vestiti colorati e poi hanno questi bei veli e poi sono curatissime molto interessante quasi che alla fine ti viene voglia di portare un foulard velo di portartela a casa come souvenir ma quello sicuramente io guarda vicino a cash c'è un'altra isoletta molto piccolina ma proprio veramente piccola dove siamo andati a in gita diciamo così no in escursione e in questa isoletta che è ancora più piccola e quindi ancora più lontana dal mondo dal nostro mondo arrivano solamente turisti iraniani è difficile trovare dei turisti italiani e quindi queste donne sono tutte sempre vestite con il loro anzi ti dirò in quest'isola le palandrane nere non ci sono hanno vestiti tutti molto colorati perché lì c'è una forte influenza indiana diciamo che questa popolazione che è che è arrivata sull'isola di cashmere inizialmente derivavano dall'india e quindi sappiamo che gli indiani invece sono molto colorati quindi i loro vestiti sebbene rispettino le regole di quello che è la legge iraniana quindi le maniche lunghe i pantaloni lunghi e tutte queste cose qua in realtà sono molto molto colorati e tra l'altro loro sotto queste palandrane colorate portano dei dei pantaloni che sul fondo cioè a livello della caviglia sono tutti ricamati quindi sono stretti sopra sono più larghi sono un po a sbuffo e sotto sono completamente ricamati con oro rosso ma proprio dei capolavori ecco in quest'isola ci sono le signore che ricamano i veli e ma non è che li ricamano così per vendere ai turisti cioè io ti giuro ho tampinato due tre signore per a lungo per lungo tempo intanto che sono stata su quest'isoletta perché io volevo comprare uno dei veli che stava facendo questo velo era tipo nero e fatto tipo di un tessuto che sembrava quasi una rete molto sottile e so e sopra aveva ricamato delle stelle queste stelle erano ricamate in oro con un filo che loro non cucivano cioè il filo lo passavano a mano dentro le maglie di questo velo che era semi trasparente e e poi veniva questa stella perché loro era come se facessero un ricamo a mano senza lago io guarda ci sono morta dietro a quel velo ma non c'è stato verso perché lì funziona così quel velo era per una ragazza che si doveva sposare e quando ci sono i matrimoni loro si uniscono e preparano il corredo tutte insieme e quindi stavano preparando il velo per la sposa capito quindi io non ho potuto avere questo velo stupendo e meraviglioso perché non me l'hanno voluto vendere cioè niente trattativa niente non c'era verso non ne volevo non era in vendita no assolutamente no quindi sì se trovi cioè dei bei veli che li trovi perché comunque nei bazar ci sono sì sono souvenir da portare a casa alla fine ah sì però tu hai parlato di isola e isole la prima cosa che mi viene in mente quindi è mare spiaggia costume cos'è che non va nel ragionamento non vanno il costume non vanno i bagni non vanno le spiagge allora in realtà le spiagge vanno nel senso che comunque non è che in queste isolette a parte il porto di cash ma che ci arrivi con una nave traghetto un pochino grossa quindi comunque è un porto in realtà sulle altre isolette l'intorno anche per farigi cioè le spiagge ci sono però ci sono i mercatini sulle spiagge non è che tu vai lì e ti metti a prendere il sole siccome non ci sono queste leggi e non ti puoi svestire non ti puoi spogliare gli uomini non possono stare insieme alle donne tutte queste robe qua loro il mare è una cosa che gli serve per trasferirsi da un posto all'altro non è come da noi che vai al mare a prendere il sole a fare il bagno noi abbiamo fatto il bagno lo stesso nel senso che a un certo punto ci siamo fatti portare su una spiaggetta dove era solo il nostro gruppetto e ci hanno detto chi ci ha accompagnato che se volevamo potevamo fare il bagno quindi eravamo noi la nostra guida iraniana che era una ragazza e l'autista di questo trabicoletto che era praticamente un motorino con dietro un carretto dove ci aveva caricato tutti quanti e ci ha portato in questa spiaggia quindi abbiamo fatto il bagno nel golfo di ormuz nel mar persiano praticamente nel mare della persia ma c'eravamo solo noi tra l'altro il bagno per esempio l'ha fatto carlotta io non l'ho fatto però gli ho detto di fare il bagno vestita perché comunque c'erano i ragazzi che ci avevano accompagnato e quindi non sapevo come potesse essere la loro sensibilità rispetto a una che magari si mette in costume ecco quindi lei ha fatto il bagno vestita aveva una maglietta dietro e un paio di leggis messa per andare in acqua però insomma lì abbiamo fatto il bagno c'erano i delfini ci sono le tartarughe ci sono tutte queste cose qua per cui insomma così loro no però non lo usano come noi il mare non ci vanno e ti dico sulla spiaggia c'è il mercatino e basta usano andare a fare le gite in barca per vedere gli animali quindi i delfini che ci sono delle grosse colonie di delfini proprio lì in quella zona e per andare a vedere magari le mangrovie perché c'è anche un una foresta di mangrovie però no il bagno no i bambini i bambini giocano sulla spiazza ma se ti devo dire che ho visto i bambini fare il bagno no non ho visto neppure i bambini fare il bagno non è proprio nella cultura quella del bagno no assolutamente no quindi non è come le maldive che poi in un tuo racconto del blog di cui parleremo un pochino più avanti fai anche questo paragone perché comunque le maldive a cui molti noi siamo abituati ne abbiamo parlato anche con una nostra amica che è milena in un altro episodio del podcast che è una grande conoscitrice delle maldive in realtà è un paese musulmano però ha quindi con alcune restrizioni in alcune zone però ha delle zone off limits diciamo senza scusa senza le occidentali in cui ovviamente si può usufruire della spiaggia alla maniera occidentale cosa che invece in iran non c'è esattamente le maldive comunque vivono di turismo ed è impossibile andare alle maldive senza andare al mare anche perché su un'isoletta di due chilometri quadrati non è che hai molte cose da fare quindi al mare ci vai quindi si sono andate queste regole hanno le bikini beach oppure hanno le spiagge private magari davanti alle guest house o nei resort ecco quindi lì puoi metterti in costume in iran no non ce l'hanno questa idea anche perché c'è ti dico adesso in quest'isola non c'è proprio la cultura e non ci vai non c'è nemmeno il turismo come da noi quindi visto che è solo turismo iraniano quello che va su quest'isola e loro tutti non hanno la cultura di andare al mare e di fare il bagno di prendere il sole per cui gli risulta proprio difficile da pensare comunque in queste isolette qui sono si vede che sono un pochino più chiusi rispetto a quello che può essere terran a terra nei ragazzi comunque sanno tutti parlare l'inglese studiano tutti quanti hanno un'idea c'è ci sono tantissimi che sono stati a studiare all'estero e c'è anche un'idea di quello che c'è fuori dal loro mondo fuori la terra al sud no assolutamente nessuno parla inglese parlano solo la loro lingua che è anche lì come succede da noi ci sono vari dialetti quindi anche è anche differente un pochino diciamo dal persiano che viene parlato in tutto il resto dell'iran proprio per questa commistione che c'è tra l'india l'iran e tutte queste cose qua e quindi sono molto più chiusi e questo essere più chiusi è anche fa fa comporta anche una fatica nel comunicare tant'è vero che se a terran tu riesci a farti delle foto con loro così cioè lì se trovi la donna con la maschera che vuoi fotografare è difficile glielo devi chiedere prima non tutte ti danno la possibilità di fare la foto a me è successo un episodio che mi ha colpito tantissimo avevo chiesto una signora con la maschera che era dentro una bancarella che faceva il mercatino anche poi mercatino vendono le conchiglie non è che vendano chissà che cosa hanno quelle basta e gli ho chiesto se gli potevo fare la foto lei ha detto assolutamente di no cioè mi ha proprio fatto gli ho fatto vedere la maschera e lei con la mano mi ha proprio fatto segno di no poi io mi sono allontanata e ho visto che è arrivata un'altra signora iraniana però vestita un po' più all'occidentale era palesemente una turista me l'ha spiegato dopo anche la guida è andata da questa signora che era dietro la bancarella e praticamente l'ha strattonata per il braccio le ha parlato si è arrabbiata e poi dopo mi è corsa dietro mi ha preso e mi ha detto vieni qua e mi ha fatto fare la foto cioè mi ha spiegato la guida che è stata un po' come noi non abbiamo capito quello che ci sono dette perché eravamo lontane però la guida mi ha detto che ha avuto l'impressione che fosse come se la signora la turista iraniana l'avesse sgridata e avesse detto guarda che se vuoi che continui i turisti a venire qui non puoi rifiutarti di fare le foto loro hanno piacere di fare le foto noi dobbiamo essere ospitali tutti fai fare la foto hai capito quindi è stata proprio cioè dovuto intervenire un'iraniana perché io potessi fare la foto a questa signora per lei farsi fare la foto è stata un supplizio non mi ha guardato in faccia glielo ho dovuto fare di profilo però insomma dopo non potevo nemmeno più non fargliela perché l'altra signora si era comunque presa l'impegno e aveva litigato con lei per cui dopo ho dovuto per forza fargliela foto non volevo offendere la sua sensibilità però non potevo nemmeno offendere la sensibilità di quell'altra visto che ormai avevano discusso tra di loro quindi loro sono molto molto più chiusi d'altra parte però che cosa fanno le mamme coi bambini ti mettono i bambini in braccio e poi ti fanno le foto loro capito quindi come se fosse un po' l'animale da circo quindi sì poi ti chiedono da dove vieni tu gli dici che vieni dall'italia e loro cioè si vede proprio che gli luccicano gli occhi quando gli dici vieni dall'italia e poi ti mettono i bambini in braccio e vogliono fare che vogliono fare la foto ai bambini e che sono in braccio a te perché è un po come se fossi un vip capito come se fosse una personalità perché vieni dall'italia pensa un po quello l'anettuto che mi hai raccontato quindi mi fa mi da il gancio per un'altra domanda com'è a livello di accoglienza come sono gli iraniani allora gli iraniani sono fantastici nel senso che per loro l'accoglienza è veramente importante e noi siamo arrivate in iran di notte anche perché tutti i voli che atterrano in iran almeno prima della pandemia quando volavano ancora tutti arrivano a notte fonda tipo le due le tre di notte o mattina molto presto quindi le quattro le cinque orari un po scomodi però non c'è tutti i voli erano così e non è che tu potessi scegliere se partire da un posto diverso no arrivano tutti di notte non ho capito bene perché comunque tu arrivi e c'è stato un fraintendimento sul nostro giorno e orario di arrivo quindi noi ci siamo io e carlotta ci siamo trovate in aeroporto da sole tipo alle tre di notte che non sapevamo dove andare e a noi ci si sono avvicinate delle persone però le persone che ti si avvicinano non ci hanno detto non sono state insistenti non so come dire noi ci siamo sentiti subito accolte perché le persone sono arrivate in particolare è arrivato un signore e poi dopo è arrivato anche un ragazzo e ci ha chiesto se avevamo bisogno io gli ho detto che stavo aspettando che mi venissero a prendere lui mi ha detto se avevo bisogno del telefono per chiamare qualcuno io gli ho detto di no che ero già in contatto e che quindi ero già a posto e lui mi ha detto welcome welcome to iran quindi cioè non ha insistito come succede in tanti posti no mi ha chiesto se avevo bisogno gli ho detto che non avevo bisogno mi ha dato il benvenuto nel suo paese poi se n'è andato quando abbiamo risolto il nostro problema e quindi abbiamo dovuto attraversare praticamente l'autostrada che passa davanti all'aeroporto per andare nell'hotel che sta dall'altra parte noi siamo usciti abbiamo trovato la fila dei taxi fuori dall'aeroporto anche lì ci sono dei posti tipo a catania mi è successo fuori dalla stazione dei treni di catania che la gente arriva e ti strattona per i bracci perché vuole per le braccia perché vuole che tu vada in in taxi da loro no e qui invece mi si sono avvicinati mi hanno chiesto se avevo bisogno del taxi io ho detto di no e gli ho chiesto se mi potevano spiegare come fare ad attraversare la strada cioè presente tipo un'autostrada quindi non è che puoi attraversare molto loro mi hanno cercato di aiutare mi hanno spiegato dove dovevo andare mi hanno dato il benvenuto basta in sistema vero quindi sono molto accoglienti sono molto curiosi quindi quando ti incontrano vogliono fare amicizia e hanno 2500 domande da farti perché vogliono sapere come vivi vogliono sapere da dove vieni vogliono sapere che fai tutte queste cose qui quindi vogliono capire cosa c'è fuori e c'è capitato in un paesino che è diciamo il uno dei più poveri dell'Iran ed è sempre su quest'isola si chiama Laft e c'erano cioè non hanno niente da fare nel senso che non c'è nulla da fare in questo paese quindi hanno delle specie di gradinate dentro dietro al paese dove vanno al tramonto per vedere il sole che scende questo è il massimo della mondanità quindi noi siamo andati a vedere il tramonto su questo paese che è particolare perché le case nelle case ci sono le torri del vento che sono delle costruzioni particolari che servono per veicolare l'aria fresca dentro le case quindi è un sistema che si sono inventati loro per fatturare aria e fare in modo di raffrescare le case quindi tu vai su questa collinetta con queste gradinate per vedere tutte queste torri e di dietro il tramonto mentre eravamo lì è arrivato praticamente tutto il paese quindi bambini mamme un sacco di cose no e c'è una bambina che c'era una ragazzina aveva 12 13 anni che si è attaccata a Carlotta e non la mollava più cioè voleva sapere come erano i suoi compagni che cosa studiava a scuola e gli ha fatto un 2500 domande e alla fine le ha detto che le sarebbe piaciuto essere sua sorella perché le piaceva molto perché le stava simpatica e tutte queste cose qua quindi sono molto accoglienti e sono anche molto curiosi perché devono capire cioè sanno che fuori c'è un mondo diverso da loro però vogliono capire bene come funziona questo mondo diverso beh bella questa questa cosa del racconto della bimba che c'è condiviso benento hai fatto un viaggio quindi organizzato secondo te l'iran può essere visitato da soli allora in linea di massima probabilmente sì però c'è un problema c'è un problema di lingua e c'è un problema di soldi allora ripeto se vai a te ran bene o male con l'inglese te la puoi cavare ma se scendi in altri posti è molto più faticoso e non tutti sanno l'inglese no e quindi loro parlano persiano il farsi non l'arabo perché loro non sono arabi sono persiani e la distinzione per questa distinzione loro ci tengono moltissimo anche perché ravvisano delle differenze notevoli tra gli arabi e loro quindi la loro cultura è anche diversa dagli arabi anche se sono tutti di religione musulmana quindi il loro persiano è veramente difficile con la guida abbiamo provato a capire qualche segno a imparare qualche a sentire qualche parola se la riuscivamo a capire cioè è veramente difficile anche se la guida di giorno no no tutto semplice si impara benissimo insomma eh sì vabbè c'è ancora difficoltà con l'inglese quindi pensa col persiano no ci sono delle delle parole che loro hanno recuperato in qua in là da altre culture tipo per dire grazie dicono merci che è come merci in francese capito quindi hanno delle cose però se tu non lo sai ti dicono merci merci ma merci che è capito quindi il persiano è difficile in più il problema dei soldi cioè tu non è che puoi arrivare là con tutti i soldi che vuoi cambiare i soldi e usare la carta di credito no nisba niente nel senso che le carte di credito là non funzionano c'è l'embargo rispetto a tutto quello che non è iraniano quindi tutto quello che viene da fuori e quindi carte di credito che girano sui circuiti americani è niente sui circuiti europei niente loro hanno dei delle macchinette eh tipo i nostri bancomat ma possono prelevare i soldi solo loro con le loro tessere quindi come fai c'è il problema del cambio soldi che tra l'altro hanno una svalutazione esagerata quindi quando tu vai a cambiare 20 euro ti danno tu alla borsa tipo no e quindi il problema del cambiare i soldi c'è anche perché se ne rimani non li puoi ricambiare questi soldi per cui devi averne pochi il fatto di girare con un tour organizzato funziona che tu quando vai ti hanno già pagato tutto quindi gli alberghi sono pagati il pranzo è già pagato la cena i pasti le escursioni sono tutte già pagate quindi non hai il problema di gestire i soldi che è un problema non da poco capito quindi allora la tua carta di credito non funziona proprio non c'è proprio no devi partire con i soldi neanche a Terran? no vero assoluto niente ma nemmeno in aeroporto dal momento che tu atterri basta fino alla tua carta di credito non esiste più se hai dei soldi contanti in tasca bene se no ti attacchi questo potrebbe essere un problema in effetti questo è un problema proprio perché anche il cambio dei soldi non è così semplice e immediato quindi noi per esempio abbiamo cambiato dei 20 euro alla volta ma tipo che ne abbiamo cambiati due volte quindi 40 euro di contanti perché comunque ricambiare i soldi diventa un problema perché comunque hanno una svalutazione esagerata quindi tu ti ritrovi con delle masse di monete di carta che non sai esattamente dove mettere e a loro gli hai dato 20 euro quindi il problema dei soldi c'è per cui se prendi un tour organizzato sicuramente questo problema ti viene evitato il nostro tour organizzato era organizzato da un'agenzia iraniana però quindi fa la differenza fa la differenza nel senso che comunque loro sono introdotti nel loro ambiente e per cui hanno la possibilità comunque di aiutarti di darti delle dritte di accedere delle volte in dei posti dove normalmente magari fai più fatica perché loro comunque conoscono le persone conoscono l'autista noi stavamo andando nella valle della luna ci hanno fermato tipo la polizia e il nostro autista è andato lì e si sono fatti un po' di discussioni tra di loro però cioè se vai per conto tuo questa cosa non la riesci a fare loro ti prendono e ti fanno la multa che vogliono ti dicono quello che gli pare a loro quindi è un pochino complesso non dico che sia un mondo tutto chiuso anche in questo senso però ovviamente visto che la difficoltà della lingua c'è tu ti trovi in difficoltà quando ci sono dei problemi e quindi avere il viaggio organizzato in questo caso con un tour iraniano per noi è stato cioè è andata bene così ecco volevo dire invece a livello di sicurezza avete avuto delle momenti in cui potevate girare da soli magari anche a Teran e com'è la situazione? allora a livello di sicurezza io mi sono sentita molto 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 sicura ma proprio davvero tanto cioè loro proprio per questa cosa dell'accoglienza quando ti vedono perché ti vedono che sei una turista ti vengono a chiedere se hai bisogno ti danno le indicazioni non ti aggrediscono e non sono insistenti e quindi tu ti senti sereno il problema della sicurezza in iran mi sono posta il problema io cos'è che fa pensare alla gente che debba essere un posto pericoloso cioè quali sono le condizioni di pericolo che ci dovrebbero essere in iran diversi da quelli tipo che ci sono a milano o a roma quali sono? il terrorismo? qualcuno che gira con la pistola? non si può è assolutamente vietato cioè se lo trovano quello lo prendono e non dico che lo mettano in galera forse è anche qualcosa di peggio il terrorismo? no nemmeno quello perché quando è stato l'ultimo atto terroristico che c'è stato in iran? cioè il terrorismo è fuori dall'iran non è dentro all'iran e quindi io mentre ero là me lo sono chiesta e ce l'hanno chiesto anche loro abbiamo incontrato degli iraniani in traghetto che ci hanno proprio detto perché erano babbo mamma e figlia la figlia studiava in Italia e allora il babbo ha proprio chiesto ha detto mi potete spiegare che cos'è che vi fa pensare che l'iran sia un posto pericoloso e obiettivamente tu rimani così e dici boh forse perché c'è l'idea che tu se ti cade il velo ti arresti no? no non funziona così forse perché c'è l'idea che le donne siano trattate male e quindi se sei donna per forza ti devono fare qualcosa no? in realtà sono rispettatissime anche se ci sono queste leggi che non sono paritarie quindi il velo e quindi che non possono far questo che non possono far quello in realtà la popolazione è tutta molto tranquilla loro rispettano le leggi che gli vengono date dal loro governo quindi come in tanti altri paesi tante volte il popolo non è il suo governo e quindi tu vai là e cammini in mezzo alla gente e poi dici ma qui si sta bene poi fanno tutte le cose che facciamo anche noi quindi molto più ristrette nel senso vedi la gente che quando esce da lavorare va comunque a fare la passeggiata vedi la gente che comunque va nel parco e si fanno le foto si fa le foto da mettere su Instagram perché questa la piega dei selfie è arrivata ovunque quindi sì però è un po' una contraddizione nel senso che Facebook è bloccato dal governo e Instagram no allora io mi dico sono dello stesso proprietario sono entrambi americani per quale ragione devono bloccarne uno e l'altro no cioè questa cosa non me la sono riuscita a spiegare e non te la spiegano nemmeno loro perché non la sanno loro sanno che Instagram funziona e quello usano e quindi vanno nei parchi si fanno le foto ti dirò di più le ragazze vanno nei parchi si mettono in mezzo agli alberi tolgono il velo e fanno anche le foto senza il velo quindi cioè la loro il loro vivere i social è come da noi quindi alla fine cioè fanno le stesse cose che facciamo noi le mamme vanno fuori con i bambini vanno a comprare il pane girano tutte insieme chiacchierano ora è vero che non troverai al parco il fidanzato e la fidanzata che si baciano perché questo non si può fare non li troverai nemmeno che sono abbracciati perché questo in pubblico non si può fare e non lo puoi fare nemmeno tu cioè non è che se io sono amica di uno non posso andare in giro a braccetto solo perché siamo amici no la distanza tra uomo e donna deve rimanere lo stesso però con tua figlia sì nel senso puoi abbracciare tua figlia sì però per dire noi il primo giorno eravamo in giro siccome eravamo arrivate prima degli altri ed eravamo in giro da sole con una guida uomo ecco lui è stato bene attento nello stare con noi cioè io gli ho fatto poi anche le domande a lui dopo alla fine però lui è uno che comunque gira viaggia perché anche a novembre è venuto in Italia ha fatto un viaggione esagerato e quindi è ben consapevole di come siamo abituati a fare noi però lui è stato molto attento a tenere le distanze cioè anche quando eravamo seduti a tavola per il pranzo cioè lui se io gli dico passami quello lui sta bene attento che non ci tocchiamo che non ci sfioriamo che non succeda niente di tutto questo capito tiene molto le distanze per cui ci sono sì delle differenze però in realtà come vivono la loro vita e come la viviamo noi quindi fanno le cose cioè vanno a scuola vanno i bambini a livello di giocare cioè tutte queste cose qui poi sappiamo che ci sono delle restrizioni che gli derivano dal governo e quindi loro non fanno altro che seguire le loro leggi tutto qua ecco però per quanto riguarda la sicurezza ti assicuro che mi sono fatta veramente tante domande e mi sono chiesta anch'io ma perché pensiamo che sia pericoloso e non sono riuscita a trovare una risposta perché loro mi hanno fatto la stessa domanda e lì mi sono trovata obbligata a pensarci tant'è che prima di partire io ci ho messo un mese dal momento che ho prenotato a dire ai miei genitori che sarei andati in Iran e ci ho messo a un mese anche perché gli dovevo dire che ci andavo io con mia figlia infatti stavo a casa capito e loro l'hanno presa malissimo questa cosa perché comunque la percezione è che vai in un posto pericoloso la mia risposta è questa noi non conosciamo molto di quello che sono loro di quello che fanno loro non conosciamo le loro leggi non conosciamo nemmeno le leggi musulmane quindi non sappiamo bene come quello che possiamo fare e quindi questo ci fa paura perché abbiamo paura di andare in là e di andare contro qualcosa e quindi di incorrere in dei problemi per questo per questo motivo in realtà le cose da seguire sono molto semplici uomo e donna non possono toccarsi in pubblico non possono fare fusioni cioè noi italiani siamo abituati che vediamo una persona che magari conosciamo ecco la guida è stata con noi tutto il giorno quando ci siamo salutati che lui è andato via la sera ci ha portati in albergo ti viene da dire ciao ciao bacio bacio no? una cosa di questo genere no? non si può fare ecco quindi quando sai queste cose qui sai che ti devi mettere il velo sai che devi stare vestita tutta quante quella è una bella sofferenza perché comunque se fa caldo è una bella sofferenza però quando sai queste cose cioè tutto il resto voglio dire non c'è niente di così spaventoso c'è stato l'ultimo giorno che siamo tornati a Teran prima di imbarcarci con l'aereo che siamo andate in un monastero e sta cosa a me mi inquietava un po' perché comunque è un posto dove la religione è molto ancora più forte che fuori no? quindi te dici oh vabbè non so che cosa succede quindi però vai con la guida e dici vabbè allora a parte che per entrare in questo scusa non monastero santuario tu devi non basta il velo ti devi proprio mettere tutto il lenzuolo che ti copre completamente da testa i piedi non si devono vedere nemmeno i piedi le scarpe te le devi togliere te le mettono loro sono tutti organizzati da noi ci sono i guardaroba in discoteca lì ci sono i portascarpe nei santuari quindi tu vai dentro e poi c'hai questo timore dici ma cosa devo fare adesso che cosa devo dire dovrò mettermi in ginocchio anch'io dovrò piegare la testa così invece la nostra guida ci ha detto adesso se avete delle domande lo potete c'era la preghiera no? e poi il santuario è diviso la zona per gli uomini e la zona per le donne quindi noi siamo andati nella zona per le donne allora noi abbiamo visto che loro adorano la loro la loro santità diciamo e c'è una statua chiusa dentro a una specie di capanna tutta di lustrini perline vetri tutta una roba fantasmagorica e loro mettono lì i loro fastoletti chiedono la grazia per i loro malati fanno le preghiere tutte queste cose qua poi arrivi in un'altra stanza dove ci sono proprio tutti i tappeti per terra la classica moschea e dove c'è il l'imam il predicatore che continua a ripetere la preghiera e tutti sono lì seduti per terra e poi non tutti pregano cioè io ho visto la moschea come se fosse un punto di ritrovo c'erano le mamme con i bambini sedute per terra che chiacchieravano i bambini che giocavano per dirti no allora noi ci siamo sedute e una signora che era lì ci ha guardato e ci ha salutato capendo che eravamo perché ci guardavamo intorno un po' stranite e questa signora ci ha voluto spiegare come funziona quindi ci ha spiegato come si fa a pregare ci ha fatto vedere che comunque non è che tu vai in chiesa e devi stare in silenzio e devi stare lì giù ad adorare quando il predicatore ti dice determinate cose no è un posto molto sereno molto tranquillo è un posto dove vanno anche boh quelle rare volte magari che piove si ritrovano lì vanno con i bambini vanno per chiacchierare per ritrovarsi vanno anche in moschia a fare queste robe qua e questa signora ci ha fatto vedere che hanno una specie non è un sassolino è una piastrina che sembra un sasso è piccina dove praticamente viene messa per terra e loro quando si appoggiano devono appoggiare la fronte su questo sassolino quindi non appoggiano la fronte sul tappeto dove hanno pestato tutti che tra l'altro comunque sono pulitissime se ti devo dire la verità quindi ci ha spiegato come funziona la preghiera quindi non l'ho visto come non so se vai in Vaticano da noi c'è un silenzio nessuno che fiata c'è capito c'è tutta una religiosità completamente diversa lì mi è sembrato più una roba proprio dove andare insieme dove dove stare insieme dove fare anche le chiacche c'è una roba sociale mi è sembrata più che una roba solo religiosa ma sai che detta così mi ricorda un po' le chiese che ho visto in Scandinavia e Svezia per assurdo eh ma anche anche in nord Europa comunque hanno una visione un po' particolare magari della religione quindi sì ci può stare sicuramente in Svezia non si mettono piegati per terra ecco però però questo fatto di accoglienza di luogo dove puoi prendere un tè ci sono i giochi per i bambini dove i bambini si portano dietro la merenda si portano dietro il pranzo hanno le borse frigo dietro quindi si scambiano si danno il tè quindi si trovano proprio lì per fare salotto capito quindi non l'ho vista come una cosa così terrificante da dire madonna entri in Moschia adesso cosa devo fare no non fai niente stai lì poi se vuoi pregare preghi se non vuoi pregare non preghi se hai trovato anche lì e mi sono detta ah e com'è che abbiamo paura anche delle moschee cioè perché ok abbiamo paura delle moschee perché dentro magari ci sono i predicatori estremisti che dicono e predicano di comportarsi in un certo modo però in realtà questo funziona nello stesso modo in tutto il mondo che siano moschee musulmane che siano chiese cattoliche che siano cioè quello che ti dicono tu devi prenderlo o non prendere in un certo modo però l'aria che ho respirato dentro sta moschee era molto serena molto tranquilla capito quindi non mi sono sentita in pericolo tutto questo per dire che non mi sono sentita in pericolo in nessuna occasione e di questo è un articolo del sottoblog che poi mettiamo delle note perché volesse un po' approfondire tutte le riflessioni che fai sulla questione sicurezza in Iran sì è stato il primo articolo che mi sono sentita di scrivere proprio perché è stato uno dei primi problemi che mi si sono posti io per prima anche gli altri quando dicevo io vado in Iran mi dicevo cosa ci vai a fare ma sei sicura quindi si percepisce che c'è questo pregiudizio e quindi ho voluto davvero scrivere quello che ho imparato là e i miei le mie riflessioni non tanto per dire che quello che fanno là è giusto o sbagliato quanto per dire che comunque finché non conosci non puoi pensare non puoi giudicare ecco questa era la mia questione io sono andata la non per giudicare ma per conoscere sono tornata che non posso dire se la facciano bene o se facciano male ci sono delle cose che vanno bene ci sono delle cose che vanno malissimo però come in tutti i posti mi verrebbe da dire e io volevo semplicemente conoscere e capire se ci potevano essere anche delle cose buone ecco questo è il mio articolo cercare di non prendere una posizione ma dare le impressioni che mi sono fatta e le cose che ho imparato là questa era l'intenzione poi avrei voluto scriverne altri perché in realtà abbiamo visto cose belle abbiamo fatto cose belle però dopo c'è stato il quando è venuto il momento di scrivere hanno ucciso quel generale gli americani quindi c'è stato un po' di confusione e poi dopo c'era di nuovo nello stretto di Hormuz che si lanciavano i missili e tutte queste robe qua quindi ho detto poi c'è stata la pandemia che è arrivata da loro diciamo che questo 2020 ancora non ci sta regalando grandi gioie ma speriamo che poi migliori possibamente comunque quando finirà io ci voglio tornare in Iran voglio comunque vedere le città più famose voglio fare il giro nel deserto voglio fare tutte queste cose a me loro sono piaciuti tantissimo i persiani gli iraniani mi sono piaciuti molto per come ci hanno accolto per come ci hanno parlato e per come ci hanno trattato quindi ci voglio tornare secondo te qual è il periodo migliore per poter visitare l'Iran a livello di mesi e di stagioni allora Teheran è al nord e noi siamo andati a Capodanno quindi in inverno pieno e c'era la neve si scia sulle montagne che sono proprio sopra Teheran ci sono proprio le stazioni scistiche e tra l'altro due del nostro gruppo quando noi siamo ripartiti sono rimasti lì per andare a sciare e ho visto delle piste ma proprio belle cioè proprio che ti facevano venire voglia nelle loro foto e quindi bisogna considerare che l'inverno là è come da noi è freddo non abbiamo avuto delle giornate sotto zero a Teheran abbiamo avuto delle giornate sui tre gradi di giorno delle cose così e c'è da considerare che comunque c'è una cappa di smog sopra Teheran che fa impressione cioè la vedi proprio è proprio ma grigia ma tanto grigia e quindi insomma se è freddo il freddo rimane lì se è caldo il caldo rimane lì tant'è vero che d'estate in pieno agosto è molto caldo se vai al sud invece dove sono stata io nel periodo in cui sono stata io noi avevamo non dico le maniche corte che non si possono portare però la maglia maniche lunghe quella sottile di cotone sottile tirata su fino al gomito e avevamo caldo e ovviamente i pantaloni lunghi perché non puoi far diverso però c'erano 20 22 gradi quindi si stava bene quindi il periodo migliore per andare dipende dove vuoi andare diciamo che la primavera e l'autunno sono i migliori per fare i giri classici delle città delle moschee di tutte queste cose qua se vai al sud dove sono stata io vai bene anche in inverno perché comunque la temperatura è buona in inverno a Teheran è più freddo e in estate è bollente mentre se tu vuoi fare il giro delle città più famose delle moschee di Shiraz di tutti questi posti qua di Persepoli in estate è veramente molto caldo e ce l'hanno sconsigliato tutti poi li fanno però ci hanno detto che è veramente impegnativa la cosa poi con il fatto che comunque devi essere coperto immagino che non sia così piacevole poi infatti esatto dopo diventa ancora più per le donne almeno diventa più difficile ma anche gli uomini non è che possono mettersi i bermuda la canottiera e andare in giro come gli pare cioè comunque anche gli uomini hanno i pantaloni lunghi le maglie mezze maniche sì però non è che possono andare in giro come vogliono ecco quindi diventa impegnativo per chiunque andarci d'estate l'ultima domanda che in realtà è la penultima perché è un'altra è personale di cui non ti ho detto a livello di budget allora abbiamo detto i soldi alla fine non si cambiano tanto quindi a piccoli acquisti però ma il tour è costoso no il tour non è costoso perché noi abbiamo fatto dieci giorni e abbiamo fatto belli hotel veramente belli abbiamo mangiato in ristoranti avevamo la guida e l'autista costantemente con noi e tutte le escursioni erano già comprese e tutto quanto ci è costato circa 800 euro a testa comunque fra gli 800 e i 900 più o meno per fare 10-12 giorni anche i tour che fanno sulle città famose quindi Shiraz e Persepol e tutte queste cose qua più o meno quell'agenzia lì fa dei prefi di questo genere poi c'è il volo che invece quello è a parte te lo devi pagare da solo e lì abbiamo speso e lì poi lo sai anche tu dipende sempre dal momento in cui acquisti la compagnia con cui vai noi lì abbiamo viaggiato con Turkish anche perché volevamo comunque partire da Bologna non volevamo avere tanto sbatti Turkish è comunque una bella compagnia abbiamo speso circa 350 euro a testa andate e ritorno il prezzo è ottimo dai quanto durata del volo? 3-4 ore? allora sai che non me lo ricordo perché abbiamo fatto Bologna e Istanbul e poi abbiamo fatto uno scalo piuttosto lungo e poi dopo abbiamo fatto Istanbul-Teran e mi sembra che siano fino a Istanbul un paio di ore e da Istanbul a Teran ci vogliono un altro paio di ore il volo interno tipo da Teran per andare giù al sud ci sono volute due ore anche lì con un aeroplanino un po' più piccolo però insomma due ore anche lì quindi abbiamo viaggiato bastato però vedi anche il volo interno in questi 850 euro era compreso anche questo quindi alla fine non è che budget assolutamente abbordabile assolutamente dire proprio di sì l'ultima domanda prima di salutarti è cosa non manca mai nella tua valigia osta allora visto che io mi verrebbe da dirti la carta di credito però visto che in questo caso non te lo posso dire perché la carta di credito in Iran non serve proprio a nulla direi che l'unica cosa che non può davvero mai mancare nella mia valigia è il telefono per me il telefono è la salvezza di tutto poi se intendi valigia tipo vestiti o tipo cose di questo genere allora non può mai mancare non può mai mancare un asciugamanino piccolo anche se andiamo nel hotel a 5 stelle io ho il mio asciugamanino piccolo quindi per le emergenze non si sa mai quello mi sembra anche questo un ottimo consiglio sì c'è sempre anche nello zaino quando faccio i tre c'è sempre un asciugamanino piccolo c'è sempre ovunque quindi oggetto di comfort per qualsiasi ricordi sì quelle cose che ti fanno sentire tranquilla dici no se faccio questo sono a posto perché è piccolo però ti posso fare quello che voglio no e poi se lo lavo è piccolo si asciuga occupa poco spazio quindi sì asciugamanino piccolo perfetto Monica ti ringrazio vorrei ricordare a chi ci ascolta il tuo blog idea di tutto un po' dove trovate finisci di scrivere tutti gli articoli sull'Iran esatto speriamo presto si ricominciate tutti quanti a poter viaggiare esatto e poi trovate anche tante altre destinazioni vissute in maniera particolare perché tu hai fatto un piccolo accenno all'inizio ma non hai detto qual è il tuo modo preferito di viaggiare sì io viaggio in macchina con una tenda sopra il tetto e quindi dormo dove trovo dormo nel senso che mi fermo dove sono e poi alzo la mia tenda sopra il tetto della macchina mi infilo dentro e dormo lì per cui è molto un zerode molto libero molto spartano molto di adattamento però insomma viaggio spesso così e quindi trovate tutti i racconti della Maggiolina anche sul blog di Monica io ti ringrazio perché c'è stato veramente un'apertura io ho già ascoltato alcuni tuoi racconti ma veramente un'apertura molto interessante su questa destinazione che penso affascini tantissime persone ma su cui ci sono veramente tanti e troppi pregiudizi esatto è vero grazie a te e grazie a voi che ci ascoltate io vi do appuntamento al prossimo episodio se la puntata vi è piaciuta mettete un like potete iscrivervi al canale sia di iTunes che di Spotify e al prossimo episodio e al prossimo viaggio